A tale quale più bella cosa, Eros Ramazzotti. Com'è cominciata io non saprei, La storia finita con te, Che sei diventata la mia lei, Di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, Un briciolo di pazze, Ci vuole pensiero perciò, Lavoro di fantasi. Ricordi la volta che ti canta, Fu subito un brivido sì, Ti dico una cosa se non la sai, Per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, Non deve mancare ma, Ci vuole mestiere perché, Lavoro di cuore lo sai, Cantare d'amore che non basta mai, Ne servirà di più, Per dirtelo ancora, Per dirti che, Più bella cosa non c'è, Più bella cosa di te, Unica come sei. Che in me sa quando vuoi, Grazie di esistere. Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te Unica come sei, immessa quando vuoi Grazie a me, esiste Grazie, bene, bene, un'altra mezza standing convention, molto bene, molto bene Guarda come ti guardava mezzancella, ce l'hai il microfono? Come avrebbe fatto Eros? Come è cominciata io non saprei, la storia è finita con te Bravo, bravissimo Dennis, bravo Allora, Vittorio Devo essere sincero, mi è piaciuto molto Mi è piaciuto molto, non molto nella fisionomia ma nella voce era perfetto E poi diciamo che questo romazzotti mi ha fatto digerire tutto quello che ho mangiato questa sera Bravo, bravo, bravo Giorgio Allora, devo dire, sei un bel ragazzo, un bravo ragazzo, molto intelligente, molto bravo Ci conosciamo tanto tempo, però fai schifo Scusa, hai chiesto a Giorgio o a Cristiano? Stavo prendendo in giro Cristiano Allora, detto questo Dopo ci facciamo i conti Dopo ci facciamo i conti Va bene Allora Detto questo però ho visto là Guarda, io il trucco ovviamente tu sei un pochino più, no? Rispetto a Eros che è un pochino più... Però la voce insomma mi sembra che è chiaro per tutti E sei riuscito a fare una cosa A far ballare, io ho visto in mezzo al pubblico c'era delle giovani ragazze Vi volete far vedere un attimo che avete ballato tutta la sera? Tutti i pe... guarda che meraviglia Ah, ecco le giovani ragazze Guarda che meraviglia Bravo, bravo, bravo Quindi stavano ballando, quindi l'effetto l'hai ottenuto Quindi bravo Loretta Io l'ho trovato molto bravo Primo proprio perché avendo una fisionomia e una voce completamente diversa Come tutti naturalmente Entrare e rimanere con questa voce nasale Cioè per chi fa l'imitatore Ecco Antonio la sua professione ha una padronanza delle corde vocali Ma per un cantante trattenersi soprattutto nelle note alte Che intanto tenere anche il naso nelle note alte non è facile guardi L'ho trovato molto bravo e l'ho trovato nel suo genere anche somigliante Un po' più in carne diciamo Bene, bene, bene Però bene Chiudiamo con Cristiano Va bene, grazie No, rimani, rimani, rimani Io amo molto Eros Ramazzotti perché poi è un artista internazionale straordinario Lui mi è piaciuto Mi è piaciuto Aspetta In modo particolare No, 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 no Io aggiungo un'altra cosa E basta In modo particolare Mi piace in modo particolare Perché Eros quando canta porta la mano sul cuore E quella è una bellissima emozione anche E lui No, no, no E lui mi ha fatto molto piacere Che ha portato la mano sul cuore come Eros Ramazzotti Perciò si è premiato per me Bene, perfetto Grazie Accomodati pure Grazie